8 stranieri irregolari che dimoravano nel territorio fanese sono stati sottoposti da parte della procura di Pesururbino a procedura di espulsione dal territorio nazionale perché risultati irregolari. Il ragguardevole risultato di allontanare dalla città di Fano 8 individui senza fissa dimora è stato raggiunto grazie a numerosi servizi straordinari effettuati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Fano coordinati dal dirigente Stefano Seretti mirati al contrasto dei reati verso il patrimonio, furti in appartamento o in esercizi commerciali e dello spaccio di stupefacenti ai quali spesso i clandestini ricorrono come spediente per sopravvivere. Gli uomini del commissariato attraverso blizzi incasolari abbandonati o abitazioni segnalate o in luoghi abituali di consumo e spaccio di droga hanno identificato oltre 200 persone, 8 delle quali risultate irregolari sul territorio nazionale, un russo, 4 africani di cui 2 tunisini, un marocchino e un nigeriano e 3 rumeni rintracciati grazie alla individuazione di un'autovettura in località Meteorilia di loro utilizzo e segnalata in diverse occasioni a seguito di furti in appartamento. Le operazioni sono state eseguite in diverse occasioni anche in coordinamento con il corpo della Polizia Locale Fanese in zone di transito come stazioni di autobus e ferroviaria e zone di abituale incontro come i passeggi o parcheggi pubblici. Strategica quindi la collaborazione dei due corpi per meglio individuare attraverso conoscenze e presidio del territorio le zone e le sacche di irregolarità nel territorio comunale.